John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo video in cui analizzeremo passo per passo il mercato della Roma da tifoso Giallo Rosso, io spero ragazzi che questo video vi piaccia e che questa idea vi piaccia Qualora il video non vi piacesse mi dispiace veramente tanto ma fatemi sapere il perché In questo video vi darò semplicemente i miei pareri, le mie impressioni sul calcio mercato della Roma Ovviamente se volete che io lo faccia più nello specifico anche per le altre squadre per quanto riguarda magari da esterno Ovviamente quindi Juve, Milan, Inter, Napoli, magari Lazio, magari Atalanta, magari Fiorentina Vi invito qui sotto a lasciare una barca di mi piace quindi intendo magari che ne so che se questo video dovesse raggiungere magari 5.000 mi piace Potrei pensare di farlo anche per la Juventus però in questo caso ovviamente da esterno Detto questo inizio immediatamente a parlare del calcio mercato della Roma Partiamo dalla prima cessione in assoluto fatta dalla Roma che è quella di Pons Pons che va allo Spartak Mosca, sinceramente ragazzi con tutto l'amore del mondo è giusto che Pons vada In questi anni non si è dimostrato affatto capace di poter giocare con la maglia giallorossa L'abbiamo prestato un po' in giro per il mondo ma alla fine tornava sempre Sembrava veramente un frisbee di Ezequiel Pons Diceva un gran bene, se non sbaglio gira dei tempi di Sabatini È ancora molto giovane, ha ancora 22 anni Io credo che sia giusto che vada a fare esperienza altrove Anche perché in questo momento il centravanti argentino non potrà senz'altro mettersi in mostra a Roma Lo Spartak Mosca ci paga 3 milioni di euro Sono contento perché quantomeno da quello che so alla Roma aspettano altri 3 milioni di eventuali bonus E il 20% su una futura rivendita dell'argentino Quindi qualora magari dovesse esplodere e dovessero andare a venderlo magari a 20 milioni di euro A parte che ce l'hanno pagato 6 di quei 20 milioni ci darebbero una bella fetta anche a noi A questa cessione voglio dare un bel 7,5 La seconda cessione che vado ad analizzare è quella di Costas Manolas Beh su Manolas c'è veramente tanto da dire Soprattutto perché? Perché innanzitutto Petrachi poteva fare ben poco Quando è arrivato a Roma già era presente una clausola rescissoria Quindi il giocatore qualora avesse voluto avrebbe potuto andare via E questo effettivamente Manolas ha fatto È un'operazione al quale io do 5 Perché è vero che Petrachi per lungo tempo ha rispettato quanto detto Perché lui ha detto che se una scuola si fosse presentata con l'offerta non congrua a quella che voleva la Roma Il giocatore non sarebbe partito E così ha fatto magari con Edinge e con molti altri giocatori Questo con Manolas è stato rispettato così e così In quanto il difensore greco alla fine con un lungo braccio di ferro con il Napoli Che non voleva assolutamente spendere più di una cifra irrisoria Alla fine è andato al Napoli Io do un 5 perché comunque si poteva gestire in modo diverso Però visto che poi il voto va a Petrachi posso giudicare poco il nuovo direttore sportivo della Roma Luca Pellegrini Ecco Luca Pellegrini ha un'operazione alla quale voglio dare un voto parecchio alto Io penso che alla Roma darò un 7,5 Allora da una parte io non posso negare il fatto che mi dispiace di aver ceduto Luca Pellegrini Perché il terzino ex Roma in questo momento della Juventus Ma in realtà in presidio al Cagliari È uno di quei giocatori che certamente in futuro farà la differenza È uno di quei giocatori che ha appena 20 anni Ha in classe 99 che però già vale quei 5-6 milioni di euro C'è da dire però ragazzi che la Juventus lo ha pagato tantissimo alla Roma Sì poi fate voi discorso plus Valenze Compra e recompra Quel che però viene messo a cartellino è che la Roma ha venduto un giocatore Prodotto del proprio bivaio per 22 milioni di euro Un giocatore che a Roma non aveva praticamente mai giocato Sennò in un paio di occasioni Prendendo tra l'altro un cartellino rosso in Europa League No in Champions League Tra l'altro sembrava di Europa League Quindi secondo me questa è un'operazione molto intelligente Farta dalla Roma E sinceramente io mi sento di giudicare in modo positivo questa cessione Andiamo avanti El Sharawi allo Shanghai Shenua Allora sinceramente mi dispiace molto Mi dispiace molto perché oggettivamente la Roma Poteva fare qualcosa di diverso Abbiamo parlato di un El Sharawi Che accettava di rimanere a Roma Di un El Sharawi che per rimanere nel grande calcio Non andava via non andava in Cina Poi alla fine El Sharawi in Cina ci va davvero Lasciando i tifosi della Roma E un po' tutto quello che ne circonda Con un fiorellino in mano praticamente E tutti abbastanza increduli La cifra sinceramente non era possibilitata Ad essere rifiutata In quanto oggettivamente El Sharawi in questo momento Si stava facendo molto bene Però spesso ha dimostrato la discontinuità In maglia giallorossa Io per la cessione fatta mi sento di dire 6 ma in realtà è veramente un 6 faticoso È un 6 faticoso perché È un giocatore che a Roma avrebbe fatto ancora comodo Però sono soldi che in questo momento Potrebbero aiutare nel mercato in entrata Doveva un po' sistemare i pedracchi Per smantellare il caos fatto da Monce Alla fine con El Sharawi ci fai 16 milioni di euro Do un'insufficienza Diciamo do 5 e mezzo dai Ma perché è poco Ci hanno veramente offerto poco Potevano offrirci molto di più Però quando poi arrivano Da El Sharawi pieni di sordi Beh difficilmente riesci a trattenere Il calciatore che se ne vuole andare Passiamo adesso alla nuova cessione L'altra cessione ragazzi È quella di Gerson E qui alla cessione di Gerson Voglio dare 9 Gerson va al Flamengo ragazzi Esattamente per indovinate Indovinate 11 milioni virgola 8 Di euro 22 anni Può crescere Può far bene Io questo non posso assolutamente Metterlo in dubbio Però oggettivamente ragazzi Si parla di un calciatore Che quando è stato chiamato in causa Ha sempre E sottolineo sempre Fatto male A Roma si è sempre dimostrato Discontino Non pronto A Firenze I divosi della viola Non volevano più vederlo Gerson ragazzi È un giocatore che Non poteva giocare a Roma L'offerta del Flamengo È assolutamente Ripeto Assolutamente Ottimale Per la Roma Io sono molto contento Della cessione di Gerson Che sinceramente Non volevo vedere mai E sottolineo mai più L'altra cessione che abbiamo fatto È quella di Nzonzi Al Galatasaray Ecco qua Già cambia qualcosa Perché Nzonzi È andato al Galatasaray E ovviamente L'abbiamo visto tutti Ma in prestito Quindi diciamo Ci sono delle clausole Che potrebbero permettere Di non vedere mai più Nella vita Nzonzi Però questa è una speranza Ed è una speranza Che in questo momento Resta vana In quanto tu l'hai pagato È circa 26 milioni di euro La possibilità è quella Di estendere il prestito Per un altro anno Un diritto di riscatto Fissato a 16 milioni Nel 2020 A 13 milioni Nel 2021 Quindi vuol dire Che praticamente Se il Galatasaray Decidesse di riscattarlo Tra due anni Avrebbe il giocatore Per due anni La Roma otterrebbe Appena 13 milioni di euro Quindi perderebbe La metà Di quanto ha incassato Ha giocato un anno a Roma Quindi con Con l'ammortizzamento Probabilmente Ammortizzazione Ammortizzamento Ammortizzamento Probabilmente Non perderebbe Tutta quella cifra intera Però oggettivamente Ragazzi L'operazione L'operazione Inzonzi Ti posso dar 6 Perché sei riuscito A piazzarlo Però No Ti do 5 e mezzo Perché l'hai piazzato In prestito Non hai fatto niente Di straordinario Un giocatore Che comunque C'ha 30 anni C'ha un'esperienza importante Nonostante ha fatto schifo Ha vinto un mondiale In prestito Qualcuno te lo prende Quindi Per me con Zonzi Non hai fatto niente Di eccezionale Cioric Allora Cioric Abbiamo scoperto Che è ancora vivo Ed è stato prestato All'Almeria Tra l'altro Buono Perché ci danno anche 400 mila euro Quindi proprio Ce l'hanno regalati Questi soldi L'Almeria ovviamente Avrà una possibilità Di riscattare il giocatore Titolo definitivo Condizionato A verificarsi Di determinate situazioni sportive 6 milioni di euro Allora 6 milioni di euro Ragazzi È una cifra assolutamente buona Se pensate che la Roma Lo ha pagato 6 milioni Quindi insomma Già incassiamo 400 mila Lo abbiamo avuto un anno Non si è mai Dimostrato all'altezza Probabilmente in allenamento Perché non ha giocato mai Comunque quest'anno La Roma prende Mezzo milione di euro Il giocatore cresce In Spagna In Liga 2 Se dovessero riscattarlo Andremo addirittura A fare una plus valenza Con Ante Cioric Quindi qua Secondo me Guardate Do 7 Do 7 come operazione Perché secondo me Qui si è mosso Veramente molto bene Petraghi Poi 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 De Freel Al Sassuolo Ecco Anche qua ragazzi Qualcosina va rivista Perché oggettivamente De Freel Non poteva più giocare Nella Roma E non volevamo assolutamente Vedere un De Freel Che tornava alla Roma Però dall'altra parte C'è Qualche dubbio Ce l'ho Titano innanzitutto Subito 3 milioni di euro Obbligo Per di 9 milioni di euro Con rispettiva variabile Fino a massi di 2 milioni Con un minimo garantito Di 1 milione Quindi se va male Comunque Incassiamo 13 milioni Da Gregoire De Freel Per chi non lo sapesse Sparaci fra a caso La Roma spese 15 milioni di euro Per Gregoire De Freel Inoltre Ha incassato 1 milione e mezzo Dalla Sampdoria Questo vuol dire ragazzi Per chi ovviamente Ripeto Non lo sapesse Che la Roma Comunque vada Incasserà 14 milioni e mezzo Di euro Minimo E 15 milioni e mezzo Massimo Per De Freel Con il fatto che la Roma L'ha tenuto comunque Una stagione Abbiamo fatto un'ottima Plusvalenza Io non so come abbia fatto Sinceramente qui Petraghi A piazzarlo Per una cifra del genere Io voglio dare Anche 8 e mezzo Per la cessione Di De Freel In questo modo Molto E sottolineo Molto intelligente Non so quanti Sarebbero riusciti a farlo Passiamo adesso A Olsen 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 Ragazzi Quando io leggo Olsen Ceduto Ovviamente Godo sempre C'è però da fare Una premessa importante Olsen va al Cagliari Ma va al Cagliari Perché Cragno Si è fatto male Altrimenti Olsen Non sarebbe andato Al Cagliari Ok E questo è un discorso Molto importante Da fare Perché questo significa Che l'anno prossimo Olsen Te lo ritrovi sul Groppone Va detto però Che potrebbe Anche Rimanere lì Perché Perché c'è un riscatto Di 3 milioni di euro Da quanto ho capito Magari se lo tengono Va detto che qua ragazzi Abbiamo fatto un'operazione Un po' a cavolo Perché l'abbiamo pagato 9 L'abbiamo tenuto un anno Quindi alla fine Andremo Andremo comunque A perderci Abbastanza Contratto comunque Se non vado errato A 4 anni Quindi Andiamo a fare L'ammortizzamento Di 9 milioni In 4 anni E circa 2 milioni e mezzo Di euro l'anno 2 milioni e mezzo Li hai già messi All'ammortamento Altri 3 Te li darebbe il Cagliari 5 e mezzo Comunque ha fatto Un 3 milioni e mezzo Di minusvalenza Va detto comunque Che Olsen Ha fatto schifo Io non dico Non potevamo aspettarcelo Perché sì Potevamo aspettarcelo Comunque Come operazione Giusto perché Se riuscite a piazzarlo Subito All'ultimo Ti do 6 Ti do 6 dai Ti do 6 Con Alon Alla fine riusciamo A levarcelo Da mezzo Va al Granata Io volevo cantare Granata mi Granata Quando Se siamo levati da mezzo Con Alon Non ci credevo Ve lo giuro Anche qua però Regà C'è qualcosina Che non va Come dice Fatta la legge Trovata l'inganno Nel caso nostro Ceduta Ceduto Ceduta Una sega Scusate Il francesismo Capito Capito dove In che posto L'abbiamo preso Più o meno È andata così Perché ragazzi Perché Con Alon Probabilmente Ce lo ritroveremo Sul gruppone Uno di quei giocatori Che non te lo scrolli Di dosso Nemmeno a pagarlo D'oro E tra l'altro Non si è nemmeno capito Se è stato ufficializzato La cessione o meno Perché Poi non ne hanno parlato In modo Ampio Quindi insomma Io sinceramente Ho paura Ma proprio paura Di quelle che Te caghi sotto L'anno prossimo Di ritrovarmi Con Alon In questo momento È andato al Granata Non si è ben capito La Roma come Ha gestito la trattativa Non si è ben capito La Roma come È riuscita A divincolarsi Però da quanto ho capito C'è un diritto Di riscatto probabile Ma nemmeno ci spiegano Il perché Nemmeno ci spiegano Come potrebbero riscattarlo Già Si sa che Non lo riscatteranno mai Patrick Schick Patrick Schick Ragazzi Le fritte Le Schick Mamma mia Lo pagammo Tipo lira di Dio Pagammo Schick Quanto badistuta Io non me lo scorderò mai Schick Che se ne va All'Ipsia Mi domando Con quale coraggio Sinceramente All'Ipsia Abbia preso Patrick Schick Per una cifra In realtà Molto alta Perché io vi vado a dire Subito ci danno 3 milioni e mezzo di euro 500 mila euro Per i bonus Legati al raggiungimento Da parte del calciatore Di determinati obiettivi sportivi Diritto di opzione Per l'acquisizione A titolo definitiva In favore dell'Ipsia Di 29 milioni di euro In caso di qualificazione Della società tedesca Alla UEFA Champions League Quindi vuol dire Praticamente che se l'Ipsia Dovesse arrivare Nei primi quattro posti Noi incasseremmo Un totale di 32 milioni e mezzo Di euro circa Dalla cessione Di Patrick Schick Che se pensi Di averlo pagato Alla fine Non sto scherzando In questo momento 14 milioni di euro È tanta roba Ricordiamoci però ragazzi Che alla Samp Spettano 8 milioni di euro Per bonus Legati al raggiungimento Da parte della Roma E del calciatore Di determinati obiettivi sportivi E in caso di futuro Dall'asferimento Del calciatore Entro il primo febbraio 2020 Quindi Se lo riscattano Entro febbraio La Roma dovrà dare alla Samp Il 50% Della cessione Quindi insomma Speriamo che ce lo riscattino L'anno prossimo E di incassare Tutta la cifra E quindi di fare Una plus valenza Pazzesca Il doppio Con Patrick Schick Comunque come l'hanno trattato Qua io mi sento sinceramente Di dare 9 Perché non pensavo Riuscissimo a cedere Patrick Schick Addirittura Con questa modalità E quindi con un guadagno Anche piuttosto importante Concludiamo con Due calciatori Che abbiamo ceduto Il primo è Marcano E sinceramente Regà io Marcano Come eccessione Voglio dargli 7 e mezzo L'abbiamo dato al porto A 3 milioni di euro 32 anni Non lo pagammo nulla Quindi Giacatori inutili Penso che Per quella cifra Abbiamo anche Siamo anche riusciti ad alzare Tanto tanto E poi il prestito di Karsdorp Che appena l'abbiamo prestato Al Feyenoord Si è spaccato E rimarrà fuori Praticamente per tutta la carriera Su Karsdorp Regà nemmeno do il vuoto Torna 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 ora Era prestito secco Ma è inutile L'abbiamo prestato Perché si è spaccato Salta tutta la stagione Quindi C'è veramente poco da dire Detto questo Detto questo Io vi invito Ad iscrivervi al canale E vi dico Che appena questo video raggiungerà Quando ora dovesse raggiungere 5.000 mi piace Uscirà immediatamente Un nuovo video Però stavolta parlerò Degli acquisti Della Roma E quindi analizzerò Acquisto per acquisto Ogni acquisto Scusate La ripetizione Della Roma Per la stagione 2019-2020 Dando un voto ad ogni acquisto E dicendovi la mia Iscrivetevi 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 Buonasera Come sempre Ci vediamo Ad un prossimo video